La corruzione costa ai cittadini europei 120 miliardi di euro all'anno, tanto quanto l'1% del PIL comunitario. Quasi un altro 5% del PIL lo rubano le 3.500 organizzazioni criminali attive nei 28 Paesi membri dell'Unione Europea. Libera ed il gruppo Abele, in cooperazione con Avviso Pubblico e Mafia 9 Dank, e il coordinamento de Haut-Ile-de-France lanciano Restarting the Future, una campagna che chiede ai tutti i candidati alle elezioni europee del 22 al 25 maggio di impegnarsi se eletti su tre punti. Il primo, a lottare per creare di nuovo la Commissione parlamentare CRIM contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio del denaro sporco. Il secondo punto, a non abbandonare le persone che rompono il muro del silenzio e denunciano gli atti illegali che possono danneggiare tutta la collettività. Chiedono alla Commissione europea una normativa comune per la protezione di chi denuncia atti di corruzione. Il terzo punto, a istituire il 21 di marzo di ogni anno la giornata europea in memoria delle vittime, delle mafie e della criminalità organizzata. A questo punto potete visitare il website restartingthefuture.com e anche firmare la petizione oppure cercare questo sito su Facebook e Twitter. Grazie. Grazie. Grazie.